A cosa pensi? Il social chiede Poi la ricerca, ha il tuo motore Logaritmi accelerati In nove parole sarete schedati Broll, beau, facile, chaud, cher Propre, super, pauvre, bizarre Un vi bello da su un sol click Compri, vendi, vendi, compra Bombarda la pubblicità Dove più più tono senso sparirà Condizioni lette in scelte Letta per l'attività La ricerca di un miraggio di felicità Una vita bella in un solo click Pubblicità Strano Bello Facile Caldo Caro Pulito Super Super Povero Stravagante Stravagante Corte Venti 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 Compra Bombarda la pubblicità Condizioni lette in scelte Lotta per l'attività Cone che ti trovi senso E la ricerca di un miraggio E un miraggio in gine felicità bello facile caldo caro super 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 Grazie.